Non è solo questione di difendere Berlusconi, che difendiamo assolutamente mai, ma è di difendere la parte politica che abbiamo contribuito a costruire in tutti questi anni, a difendere un percorso politico, a difendere delle battaglie di libertà, dei valori che noi difendiamo con grande difficoltà, fortemente avversati, ma non c'è bisogno di fare il vittimismo qui, e che sono diventati la nostra forza nel corso di ormai quasi 20 anni. Di questo si tratta. E questo è un elemento di forza anche per il governo. Questo è un governo che deve presentarsi, l'ha fatto ieri il ministro Saccomanni, in Europa, a chiedere regole diverse.